Pronto? Cognome e nome? Nome Guido, cognome Esatto Ok, soprannome? Buongiorno Neanche in palestra non ti chiamano in qualche modo? Sì, Matteo mi chiama, allora, mi chiama Pippi, poi mi chiama Naro Malefico Perché sei il più piccolo? Sì, e basta Quanti anni hai? Nove Nove, che classe fai? Quattro La materia che a scuola ti piace di più e quella che ti piace di meno? Mi piace la matematica, non mi piace la geografia Ok, il tuo animale preferito? Grufo Il tuo colore preferito? Arancione Il tuo cibo preferito? Pasanglia Che sport fai? Ginnastica Da quanti anni? Uno Un anno Solo un anno che lo fai? Sì Ok, e come mai hai scelto proprio la ginnastica? Perché mia sorella fece la ginnastica, allora ho voluto provare anch'io Ok Quante ore ti alleni a settimana? Tre In una settimana, no? No, no, in una settimana, non lo so Diciotto Ok Allora, il tuo attrezzo preferito è quello che non sopporti? Allora, mi piace anello e anche cavallo mi piace E non mi piace, carbo libero L'elemento più difficile che tu sai fare? Scegli tu l'attrezzo Rolato al picco Ok E come ti senti quando sei in gara? Un po' teso E un po' paura Ok, però neanche tanto, non mi sembra dalla faccia Non troppo Ok E hai dei portafortuna però? No No? Chi ti porta di solito alle gare? L'allenatore o chi mi porta? No, chi ti accompagna Mamma o papà? Mamma, tutte e due Tutte e due Come ti senti in palestra quando non ti viene qualcosa? Male, un po' semplice E poi? Ti butti giù o ci riprovi? Ci riprovi Ok Com'è il tuo rapporto con Teo? Andate d'accordo o litigate? Allora, alcune volte litigiamo, alcune volte non accorre E per cosa litigate di più? Per quando faccio le prozioni Perché? Perché più le gambe non è del baro Baro Ok E un pregio tuo nella vita e un tuo difetto? Un pregio perché sono simballo Difetto che... Per cosa ti sgridano di più? Sei troppo chiacchierone Ok, fai un saluto matto? Per me Ok